L'associazione Vittima del Dovere si è costituita per iniziativa di vedove, orfani, genitori e invalidi di appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate caduti o feriti durante l'adempimento del proprio dovere. L'associazione è apartitica, senza scopo di lucro e a carattere nazionale. La sua struttura e il suo funzionamento si ispirano a principi di solidarietà, democrazia e trasparenza e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione si impegna affinché sia consolidata una legislazione equa e rispettosa della memoria delle vittime e che siano garantite idonee tutele ai familiari e agli invalidi vittime del dovere. Per tale ragione l'associazione Vittima del Dovere è diventata nel corso degli anni punto di riferimento per tutti coloro che si sono trovati nella difficoltà di dover affrontare il tragico momento della perdita di un proprio caro o la perdita della propria integrità psicofisica. L'associazione oltretutto si occupa anche di convegni all'interno delle scuole e delle università volte ad approfondire il tema della legalità e sta cercando ormai da due anni di istituire un centro di sostegno psicologico e legale a favore di tutte le vittime del dovere. Il presidente dell'associazione, la dottoressa Emanuela Piantadosi, ci parlerà del progetto di oggi. L'associazione Vittime del Dovere ha tra i suoi principi statutari quello di rendere nota e onorare la memoria di chi è stato ucciso in servizio. Io sono un'orfana di un maresciallo dei carabinieri, di un servitore dello Stato che ha perso la sua vita, di un padre che ha cercato di consegnare alle generazioni future una società migliore. Così come lui, tanti sono i colleghi che si sono sacrificati e che hanno cercato di contribuire al bene comune. Per questo la nostra associazione ha cercato di coinvolgere tutti i comuni presenti sul territorio italiano al fine di intitolare strade, piazze, vie alla memoria delle vittime del dovere e per rendere in perituro il loro sacrificio. Vi chiediamo di sensibilizzare i vostri comuni, il vostro comune, affinché possano essere ricordati i principi di legalità e di giustizia che hanno animato le vittime del dovere. Principi che solo così potranno essere scolpiti nella storia della nostra nazione e potranno essere un esempio positivo per i nostri giovani. Quindi per chi ha donato la vita, per chi resta, per le future generazioni è importante lasciare un segno, un segno del ricordo, un segno del loro passaggio, un abbraccio che l'Italia può fare ai suoi eroi. Correre per le strade a sirene spiegate per soccorrere le vittime di una rapina, arrestare un latitante, sgominare un traffico internazionale di droga o salvare un bambino durante una missione di pace. Per un appartenente alle Forze dell'Ordine e Forze Armate è normale amministrazione, ma qualche volta significa donare la vita. Il suo nome per qualche giorno troneggia sulle prime pagine dei giornali, ma poi rischia di perdersi come inchiostro nell'acqua. Le vittime del dovere invece vogliono ricordare le azioni eroiche appunto degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate. Dona il tuo 5x1000 alle vittime del dovere. Visita il nostro sito www.vittimedeldovere.it Grazie Da una cartolina in un cassetto, quanti ricordi? Questa me l'ha mandata una mia amica qualche anno fa, Lucia, che storia la sua. Dopo 30 anni di matrimonio e tre figli ormai grandi, suo marito un bel giorno le dice che se ne va via di casa, vuole il divorzio. Poco dopo anche i figli vanno via per questioni di studio. E lei si ritrova in un attimo dall'avere la casa piena di gente, risate, cose da fare, si ritrova ad non avere più niente da fare e si ritrova soprattutto sola, ma ancora di più a sentirsi sola. Questo la fa stare molto male, non sa con chi parlare. I vicini inesistenti, gli amici non la invitano più, sono in imbarazzo, dicono. Non la invitano più alle gite, alle feste, più niente. I colleghi la ignorano, forse perché è difficile stare vicino ad una persona che soffre, una persona triste e malinconica, è molto più semplice stare vicino a persone allegre. I suoi genitori sono molto anziani, per cui lei non vuole caricarli di ulteriori preoccupazioni. Poi ci sono i suoi figli, che lei adora, e ai quali non vuole far vedere quanto lei sta male. E quindi tiene tutto dentro di sé, questo pesante fardello. Ma un giorno, mentre ascolta una trasmissione radiofonica, sente uno spot pubblicitario del telefono amico. Per cui, un po' per curiosità, un po' per la disperazione, decide di fare quella telefonata. Ma appena alza la cornetta, sente una voce che l'accoglie. Come stai? Le chiede. E lei, senza quasi rendersene conto, inizia a parlare, inizia a dire cose che non aveva mai detto nessuno, cose anche molto intime, tutte le sue debolezze, la sua fragilità. E questa persona ascolta, semplicemente ascolta. Tramite questa persona, un volontario del telefono amico, lei riesce a guardarsi meglio dentro, a mettere a posto dei tasselli che la tormentavano. Riesce a capire delle cose, riesce a fare un po' d'ordine nel caos dei suoi pensieri. A un certo punto, posa la cornetta, questa telefonata è finita. Quello che le resta è che si sente invasa da una bellissima sensazione, si sente molto più leggera. Per cui, la sua vita adesso è cambiata, però le fa piacere sapere che il telefono amico esiste. Perché è bello sapere che qualcuno può ascoltarti quando tu hai delle cose da dire. Dovendo partire con una battuta, potremmo dire che il futuro ha radici antiche. Il 2016 rappresenta infatti il 130esimo anniversario dalla Costituzione di Lega Coop, Lega Nazionale delle Cooperative Mutue, la più importante associazione di rappresentanza del movimento cooperativo. Il sistema delle imprese cooperative contribuisce per l'8% del prodotto interno lordo e fra le 100 imprese più grandi in Italia, oggi 30 sono imprese cooperative. Ma il 2016 non è soltanto la celebrazione del passato, e io aggiungo di un glorioso passato, ma anche il tempo di progettare il futuro. Nel 2016 infatti si è avviato un percorso che porterà Lega Coop, Conf Cooperative, Alleanza Generale delle Cooperative, cioè le tre più importanti associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, alla Costituzione dell'Alleanza delle Cooperative Italiane. Un'unica associazione di rappresentanza del movimento cooperativo, perché questo è quello che ci chiedono le nostre imprese. Un percorso di rappresentanza semplificato per rappresentare al meglio le imprese cooperative che sono garantite dall'articolo 45 della Costituzione. Una particolare forma di imprese che, come dicevo prima, ha contribuito e contribuisce a garantire coesione sociale. Ed è per questo che noi crediamo che sia importante dare a questo sistema di imprese una rappresentanza semplificata per farci dare maggiore ascolto a livello amministrativo. E la prima più importante iniziativa come Alleanza delle Cooperative è stata quella di raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare contro le false cooperative, che ha visto la sottoscrizione di moltissimi amministratori, data la sensibilità del tema, a prescindere dall'orientamento politico, ma soprattutto ha visto la partecipazione di migliaia di soci cooperatori che vedono nelle false cooperative un danno d'immagine della loro impresa, un danno d'immagine del loro lavoro quotidiano. Rappresentare l'artigianato e la piccola industria in un attorino che ancora viene percepita come città della grande impresa è una grande sfida. Una sfida che la nostra associazione, la CNA di Torino, porta avanti direi con risultati brillanti da 70 anni. Siamo nati nel 1946, rappresentiamo le aziende artigiane in modo prevalente, ma oggi anche la piccola industria e il commercio per un totale di quasi 12.500 aziende. Una base associativa che stiamo difendendo anche in anni di grave crisi economica e con un importante calo delle industrie e delle imprese artigiane e commerciali iscritte al registro di imprese delle camere di commercio. Eppure Torino non è più città dell'industria, è soprattutto città della piccola impresa, e noi questo non ci stancheremo mai di ripeterlo, e vogliamo anche utilizzare questo importante ed autorevole canale di comunicazione per ribadirlo ancora una volta. Il 98% delle aziende che operano nel contesto della città metropolitana di Torino, ma non diversamente da quanto avviene a livello nazionale, hanno meno di 25 addetti. E il 52% della forza lavoro dipendente oggi è retaggio patrimonio della piccola impresa. Quindi da questi numeri bisogna partire per avere piena consapevolezza di quella che è la capacità produttiva delle imprese del nostro territorio. Una capacità produttiva che noi rappresentiamo a 360 gradi perché la nostra confederazione rappresenta le imprese alimentari come quelle del settore moda, il legno arredo come la metalmeccanica, le aziende orafe e al tempo stesso i centri estetici o i saloni di acconciatura. Parlare di artigianato significa in realtà parlare di tutto il sistema economico torinese, ma come dire piemontese, nazionale, ma parlare di quelle aziende che sono al di sotto di una soglia di dipendenti che mediamente è quella dei 15. Una soglia quindi di aziende che rappresentano a buon titolo l'ossatura, il vero sistema come dire su cui si regge il Paese. A queste aziende noi cerchiamo di dare servizi e rappresentanza sindacale, cerchiamo di dare voce perché sono aziende piccole. Noi difendiamo il Made in Italy, quel Made in Italy che chiamiamo indipendente e che rappresenta ancora una volta, lo voglio ripetere, la vera forza di questo Paese. Anche con iniziative importanti fatte sul territorio, la partecipazione a fiere, mostre collettive, ma anche utilizzando le più recenti normative, per esempio emanate sul territorio della città di Torino, attraverso lo strumento del co-working. Noi abbiamo patrocinato importanti collettive di aziende artigiane che hanno dato la possibilità in location di grande pregio del centro storico di Torino di essere presenti visibili e di raggiungere direttamente i consumatori che devono avere la piena consapevolezza che il vero Made in Italy è fatto dalle piccole aziende. In Italia la filiera agroalimentare vale l'8,7% del PIL, si raggiunge il 14% se si considera anche l'indotto. Stiamo quindi parlando del secondo settore manifatturiero più rilevante dopo la meccanica nel nostro Paese. Se si va ad analizzare quella che è la filiera agroalimentare come tipologia di imprese, si scopre che quasi il 68% delle imprese che compongono la filiera sono imprese artigiane. Quindi stiamo parlando di un settore che è l'alfiere del Made in Italy nel mondo e che quindi è realizzato principalmente da piccole imprese di artigianato alimentare. CNA alimentare si occupa appunto di supportare, promuovere e far conoscere le imprese di questo settore perché pensiamo che sia sempre più importante dare volto e dare visibilità all'artigianato alimentare per permettere anche il proseguire dell'importanza del Made in Italy nel mondo. Quindi quello che noi invitiamo a fare è andare a conoscere gli artigiani. Per conoscere gli artigiani lo si può già fare all'interno del supermercato, andando a cercare quelli che sono gli scaffali che sono dedicati ai produttori del territorio. Noi lì potremmo incontrare già gli artigiani del territorio, ma la cosa più importante è uscire dal supermercato e andare ad incontrare direttamente gli artigiani laddove lavorano, quindi dentro le pasticcerie, le gelaterie, le cioccolaterie e in questo modo sarà possibile incontrare l'eccellenza del nostro territorio e imparare cose nuove sui cibi e capire quanto i cibi siano molto meno standardizzati e molto più ricchi se comprati al di fuori appunto del supermercato. Quindi invitiamo tutti quanti ad andare a scoprire e riscoprire l'artigianato alimentare. Grazie a tutti.